buongiorno a tutti ecco il letto modello ambra ambra è un letto dal design contemporaneo che rappresenta un po la storia del letto imbottito e in effetti è un tipo di approccio in termini stilistici che è nato dall'evoluzione stessa dell'approccio del letto imbottito iniziato nel 1978 con il primo letto imbottito e che poi arriva fino oggi nel 2022 e perché dico questo perché vediamo è un letto moderno caratterizzato da questa testiera del gusto romantico nel senso buono del termine con questi due cuscini in appoggio che poi spieghiamo più nel dettaglio relativamente al loro funzionamento in questo momento basti osservare l'aspetto appunto stilistico e tenere presente che è quel tipo di testiera che quando sto seduto a letto è piuttosto comoda per appoggiare la schiena in termini di formati dimensionali sono veramente numerosi si parte dal singolo due versioni singolo 80 e 90 abbiamo il piazza e mezza da 120 il matrimoniale francese da 140 lo standard matrimoniale da 160 il king size da 180 e il super king size da 200 in termini di profondità dei lungheroni abbiamo il 190 e il 200 cosa molto interessante è la flessibilità sul fronte dell'altezza dei giroletti perché partiamo dal 5 centimetri quindi giroletto molto sottile con piede molto alto in questo caso giroletto da 5 centimetri con la rete strutturale poi abbiamo il giroletto da 10 e questi due primi formati non possono avere il box contenitore poi abbiamo il giroletto da 25 che è questo che può essere senza box col box tradizionale ad alzata semplice o con la cosiddetta doppia alzata poi apriamo il contenitore e abbiamo poi quello più capiente col piede più basso che è il box da 30 visto che abbiamo citato i piedi osserviamo anche questo perché è molto interessante anche l'ampia gamma di piedi disponibili per le varie altezze di giroletto poi giustamente ogni giroletto ha i suoi piedi perché giustamente col giroletto da 5 avrò il piede molto alto e col giroletto da 30 avrò dei piedi decisamente più bassi questo è il piede a lama secondo me devo dire la verità il più caratterizzante molto particolare qui lo vediamo in nickel nero ma c'è anche l'accatoral è un piede carino perché è presente in termini gli stilistici è estremamente evidente perché è esterno alla struttura ma non è intrusivo anche in termini in termini di ingombro lo trovo molto gradevole apriamo un attimo box contenitore questo è ad alzata semplice qui vediamo una maniglietta di tela in alcuni devo dire che questo è un buon un buon approccio un compromesso nel senso buono su alcune collezioni la maniglia di tela viene realizzata con lo stesso tessuto che si sceglie per il letto su altre magari è una una tela di poliestere nero magari anche bellissima a livello estetico questo è un cordoncino un cordocino grigio gradevole pratico non ha magari la personalizzazione di quelli con cui viene fatto col tessuto scelto per il proprio letto ma in termini di percezione è decisamente gradevole finiamo di aprire ma comunque stava andando su per i fatti suoi vediamo la rete ortopedica doghe è una rete classica nel senso modo del termine telaio verniciato a polvere possidiche le 13 coppie di doghe in multistrato è interessante anche la dotazione di accessori per la rete perché si può avere già di serie la rete sdoppiata magari per portarla dentro a spazi stretti o scale a chioccio la cosa di questo tipo si può mettere l'optional dei regolatori di rigidità nella parte centrale della rete magari per chi vuole marito moglie uno vuole una portanza maggiore l'altro minore c'è la possibilità di mettere questi regolatori ed anche la possibilità di mettere una rete no scusate una rete una teletta copri rete che fa sì in termini di polvere per esempio di isolare maggiormente il materasso dal box contenitore che c'è all'interno e quindi diciamo avere una pulizia più pratica da questo punto di vista il fondo è molto semplice sono due pannelli sollevabili con un cordoncino identico il cordoncino che c'è può sollevare il pannello è lo stesso tipo di cordoncino che ha attaccato qui alla rete per alzare la rete dicevamo c'è la versione a doppia alzata che qua non vi cito cosa interessante anche qui di serie c'è la possibilità per le versioni senza box contenitore di mettere il materasso invascato vedete questi supporti che sono supporti normalissimi di appoggio della rete nelle versioni senza box contenitore c'è la versione la possibilità di decidere a che altezza posizionare il supporto e vedete quando il supporto a questa altezza che è un'altezza standard la rete che sostanzialmente alta 5 centimetri si appoggia qua così ed ecco che io il materasso a filo se io questo supporto lo porto sotto cosa succede giustamente il materasso sarà totalmente o parzialmente invascato e quindi sostanzialmente se ho un materasso di 25 centimetri immaginiamo che sia invascato di 10 dico una sciocchezza ecco che sporgerà di 15 e avrà un look complessivamente più minimale quando si fa questo questa si pone questa attenzione il la testiera adesso vi faccio vedere arriviamo alla testiera quando vado a invascare il materasso vedete che qui il materasso arriva giusto giusto a filo col cuscino se io invasco il materasso e il materasso è più basso vuol dire che avrò uno spazio visibile qui quindi per quanto molto bello come accessorio opzione forse questo non è il modello ideale su cui invascare il materasso perché essendoci una sorta di doppia profondità sulla testiera secondo me questo spazio che andrebbe a crearsi non sarebbe carinissimo cogliamo quindi l'occasione abbiamo esorti esordito facendo un po di filosofia sull'origine stilistica di questa testiera vediamo come è costruita visto che il tratto caratterizzante allora il il letto nasce bicolore lo si può realizzare ovviamente con un unico rivestimento ma è una cosa secondo me carina che vado a scegliere un colore principale per il giro letto la parte interna della testiera e un lato poi in realtà vado a qui abbiamo il bigliettino dello showroom con questi laccetti vado ad allargare la testiera la sfilo tirando e ho sostanzialmente il rivestimento della parte inferiore quindi io la testiera la posso esattamente come posso giocare sul mio letto con la biancheria posso anche giocare decidendo che parte voglio avere visibile quindi quando come in questo caso ho la parte visibile con lo stesso rivestimento del letto principale è come se avessi un decoro un decoro laterale altrimenti avrò l'evidenza l'evidenza del del colore cosiddetto secondario tra l'altro ecco lo vediamo qua qui in questa situazione il colore secondario è stato usato per fare il profilo angolare del giro letto è quindi sono piccoli dettagli che però fanno la differenza parliamo un attimino dei rivestimenti si può realizzare in tutta la nostra gamma di tessuti in similpelli e in tutte le nostre pelli naturali qui in particolare vediamo il tessuto drop e la microfibra touch microfibra touch non c'è molto a raccontare un'ottima microfibra lavabile lavatrice con tanti colori devo dire in generale le microfibre sono perfette per realizzare dettagli di questo tipo come del resto i velluti o dettagli appunto come questo del profilino angolare se parliamo un attimo del tessuto drop è un tessuto misto prevalentemente cotone con una quota di poliestere è un tramato fiammato multifilato molto interessante se lo vedete da vicino vedete che l'effetto è decisamente caratterizzante ed è un tessuto anche lavabile in lavatrice qui vediamo che perché dico molto interessante adesso questo è un color nocciola caffè ma vediamo che ha tutta una serie di colori e striature differenti sia per la trama che per l'ordito diciamo un bel tessuto anche comunque accessibile come come investimento quindi letto dal design contemporaneo modello ambra